Ciao a tutti, sono Maurizio Meli, patron di Premio Lucio Dalla, siamo qui negli studi d'Italia Mia e con gli amici di StaswebTV e sono in compagnia, come vedete, di parte dello staff, presento Pino Paolessi di Roma, Valentino Prato, Fausta Nanna e gli Alibi che si sono qualificati al secondo posto della settima edizione di Premio Lucio Dalla lo scorso 19 ottobre a Roma e oggi siamo ospiti qua al Festival di Napoli New Generation, invitati da Massimo Abate, il direttore artistico che è stato con me in giuria alla settima edizione di Premio Lucio Dalla. Io adesso per una questione di signorilità intervisto prima Fausta Nanna che parteciperà al Premio Lucio Dalla dell'ottava edizione l'anno prossimo. Sì, certamente. Allora Fausta, noi ci siamo conosciuti da pochissimo e come abbiamo già detto anche in scena prima e le complimenti per il brano, ci dici qualcosa di te? Sì, ho 28 anni e già ho un po' che canto con la mia casa discografica la Beat and Sound Music. Abbiamo creato, dato vita a questo brano che ho presentato questa sera, Amore per sempre. Stiamo facendo un percorso lavorativo artistico e per me è un grandissimo onore poter partecipare all'ottava edizione per il Premio Lucio Dalla e ti ringrazio pubblicamente. Ti ringrazio, sono io che ti ringrazio. Quindi andate a vedere su YouTube anche alcuni lavori di Fausta Nanna. Io sento un attimino adesso il mio collaboratore riduttivo, dirlo, ma è veramente un fratello, è sempre un artista di Premio Lucio Dalla della terza edizione. Io volevo fare i complimenti a questa magnifica cantante non solo per la voce ma anche per il brano. Veramente siamo contentissimi di averti al più presto con noi. Tutto qua. Io collaboro con il Premio Lucio Dalla e di cantanti ne sento tanti. Bravissimi, bravissimi e adesso anche te. Si allarga la famiglia di gente bravissima. Saluti tutti da Pino Paolessi. Ok, adesso invece vi presento Valentino Prato che la scorsa edizione ha vinto un posto alla quarta vetrina di Premio Lucio Dalla a Sanremo. Valentino Prato, ci dici un paio di cousine tu? Allora, io sono onorato e fiere di essere stato a questa meravigliosa famiglia del Premio Lucio Dalla. Oggi è il Festival di Napoli ma l'anno prossimo, l'ottava edizione, sarò onoratissimo di collaborare con la famiglia del Premio Lucio Dalla, con Maurizio Meli, con Pino, con tutti rappresentando la campagna, portando gli artisti a De Provino e poi magari portarli addirittura con la finale a Roma e sarà meraviglioso. Quindi grazie Maurizio, grazie a tutti. Valentino Prato, grazie. Grazie Valentino e adesso io... Vieni Fausto, no, vieni qua, vieni qua, vieni qua. Allora, loro sono gli Alibi, si sono qualificati al secondo posto a Premio Lucio Dalla e arrivano da San Marino, da Rimini. Sono stasera in formazione ridotta perché gli altri hanno avuto diciamo motivi di lavoro per questa, ecco, questa è la motivazione per cui loro si sono esibiti soltanto in due. Adesso passo un attimo il microfono a loro che ci dicono qualcosa. Buonasera a tutti, noi siamo gli Alibi, io Enrico Evangelisti e Alessandro Zonzini e questa sera siamo onorati appunto di essere qua, grazie soprattutto a Maurizio Meli, patron del Premio Lucio Dalla e Massimo Abate. Noi siamo un original band appunto di Nata San Marino, quindi facciamo brani nostri e lo scorso ottobre è uscito il nostro CD omonimo, Alibi e siamo lieti di essere qui ancora, grazie mille veramente e speriamo di tornare ancora, anche il prossimo anno come ospiti ancora a Premio Lucio Dalla e grazie mille, veramente. Voglio dire che il nostro disco lo potete trovare comunque su Spotify o su tutte le piattaforme online, lo facciamo vedere il disco. Perché qui stanno distribuendo. Magia, ecco il nostro disco, quello sarà il suo con tutte le firme. Questo disco lo potete trovare online su tutte le piattaforme o comunque si può comprare, basta che ci iscrivete, ci organizziamo. A San Marino penso, se qualcuno capita a San Marino lo si può comprare. Allora come vedete insomma l'ambiente è già abbastanza familiare per chi ha partecipato, per chi parteciperà e per... Scusi padrone, però siccome sta per uscire il mio CD che uscirà a gennaio, come calciare del rigore, il signor Valentino se lo compra, io non glielo regalo. Allora grazie Pino e io concludo dicendo perché poi siamo qua. C'è questo scambio, si è creata questa sinergia con Massimo Abatte che ho avuto appunto in giuria e perché? Perché Lucio Dalla comunque aveva questo grande desiderio di essere anche napoletano. Ecco perché Massimo mi ha invitato e ha invitato tutti noi a presiedere questa serata con questa ospitata e ringraziamo chiaramente tutta l'organizzazione, ringraziamo la stampa, voi di Statue Web TV e gli studi di Italia Mia e con questo noi ci congediamo e vi diamo appuntamento a Sanremo il 7 febbraio 2020. Ciao!